Bentrovati compagni e compagne. Sono Emma Bonatto e arrivo da Torino, dove sono in lista per l'RSU con la funzione pubblica CGL 2022 dell'ASL Città di Torino, quindi lavoro in sanità. Non avrei mai più pensato di salire su un palco dopo i miei interventi sui palchi del Nidil CGL. Per me quelli sono stati anni duri sul posto di lavoro e anni di lotta insieme al Nidil della CGL. Oggi sono una dipendente pubblica a tempo indeterminato, ma non dimentico da dove arrivo. Quindi mi sono candidata alle elezioni RSU 2022, dove porterò, oltre che i nostri valori, la nostra idea, la nostra passione di donne e uomini della CGL, porterò anche quella che per me è una battaglia sacrosanta, la collaborazione fra categorie e la contrattazione inclusiva. La collaborazione tra categorie e la sperimentazione di una contrattazione capace di includere è da tempo una delle scelte fondamentali della Camera del Lavoro di Torino. Se vogliamo essere capaci di rappresentare il lavoro in tutte le sue forme e nei suoi cambiamenti, dobbiamo essere capaci di trovare strade nuove, di uscire dalla rigidità delle appartenenze alle categorie e cambiare anche il nostro linguaggio. A questo deve servire la nostra assemblea organizzativa. Noi siamo costruttori di speranza e dobbiamo dare gambe a questa speranza attraverso la contrattazione. Un RSU significa tanto sul posto di lavoro e la CGL ha fatto bene a volere le elezioni, perché sono un grande esercizio democratico. Un RSU significa dare a tutti la possibilità di potersi esprimere, di partecipare, di eleggere chi si ritenne degno di rappresentare. Significa la possibilità di ottenere un voto collettivo e quindi di dare potere alla rappresentanza. Proprio perché viene da un'azione collettiva. Significa dare solidità alla contrattazione, che attraverso quel voto potrà sostenere senza dubbio di essere rappresentativa di tutti e di tutte. La campagna elettorale mi permette di andare fra i lavoratori, di parlare con loro, di cercarli e di ascoltarli, facendoli partecipe di questo percorso collettivo di rappresentanza. In funzione pubblica CGL ho trovato validissime persone che mi stanno aiutando e formando. Sto seguendo corsi di formazione sindacale perché, credetemi, per destreggiarsi nelle mille burocrazie del pubblico si deve studiare e anche parecchio. Partecipo all'RSU CGL perché credo nell'esercizio di questo splendido diritto e che debba diventare sempre più forte e vivo perché venga esteso anche a chi oggi non lo può esercitare questo diritto. Un RSU significa mettere i piedi su quella strada che parte dal singolo e arriva al collettivo, che parte dall'essere solo e diventare in tanti, che parte dall'essere debole e diventare forza, che riesce a trasformare la difficoltà della solitudine in potere della collettività, l'importanza di riuscire a organizzare e costruire questo percorso porta a costruire rappresentanza, per costruire la nostra forza, per costruire la speranza, per dare gambe e vita a questa speranza. Ci servono contratti veri che abbiano una vera rappresentanza. Ci servono le elezioni RSU in ogni posto di lavoro per poter esercitare la contrattazione. E noi parteciperemo alle elezioni RSU, eserciteremo a fondo questa grande conquista, questo splendido diritto per renderlo sempre più vivo e forte. E lo faremo anche in nome e per rappresentare chi in questo diritto non lo conosce neanche, chi non solo non può votare ma neanche può pensare di farsi rappresentare, chi è solo e aspetta da noi di avere la possibilità di contare. E questo è lavoro per la funzione pubblica e per tutta la CGL. Ringrazio tutta la CGL per il senso di appartenenza che ha fatto nascere in me. Grazie e buoni RSU a tutti e a tutte.